Calcio piazzato dove sapevamo benissimo che la serenità era pericolosa, hanno realizzato 24 gol, di questi 24-11 venivano da calcio piazzato, quindi erano per loro una risorsa importante, però anche lì ci siamo difesi bene. Credo che Montipò, tranne forse qualche uscita, non ha compiuto interventi e al contrario abbiamo creato dei presupposti importanti per sbloccarla e per chiuderla, perché poi abbiamo avuto diverse situazioni dove un pizzico in più di precisione e meno voglia di far tutto da soli, probabilmente ci avrebbero permesso di vivere un finale di partita diverso, però complimenti ai ragazzi perché questa è una vittoria storica, hanno vinto dopo 43 anni contro la Serenitana, farlo in B in questo momento del nostro campionato dove stiamo dando continuità di prestazioni e di risultati, credo che sia veramente un bellissimo passo in avanti.